ma intanto no. Allora questo è rivolto a tutti voi che amate la buona musica romagnole, chi segue questo programma è sicuramente un amante della musica folcloristica, ma soprattutto mi rivolgo a chi ha grande voglia di ballare, waltzer mazzurche polche, polche mazzurche waltzer, ecco. Allora, poi la cosa interessante arriva, attenzione, presso la sala polivalente di Serravalle nella Repubblica di San Marino, ogni martedì sera, fate attenzione, fermatevi un attimo, state facendo qualcosa perché è una cosa veramente particolare, soprattutto per quello che si paga entrando in questo, definiamolo così, locale, ma è denominata l'arena del folk, ecco, ogni martedì sera, presso la sala polivalente di Serravalle di San Marino, poi vi dico dov'è, non preoccupatevi, potrete ballare e divertirvi dalle ore 21 alle ore 23 e 30, ballerete, waltzer mazzurche polche, c'è un'orchestra che per quell'occasione è denominata Ricordo Romagnolo, musica dal vivo ragazzi, su questo voglio puntare, musica dal vivo e questa orchestra è formata da vari musicisti professionisti che arrivano da determinate orchestre che sono veramente grandi, si uniscono nella serata di martedì per fare grande musica dal vivo e per rallegrare chi desidera ballare, quindi ecco, tutti i martedì presso la sala polivalente di Serravalle di San Marino, per entrare costa solo 40, 4 euro, 4 euro per entrare in questa grande, è un anfiteatro, ci sono 250 posti a sedere, c'è pista in fondo, è fatto come un anfiteatro, ecco, in fondo c'è la pista e poi accanto c'è il grande palco e ogni martedì sera ci sarà un ospite, per martedì prossimo c'è la cantante Sabrina dell'orchestra La Nuova Romagna Folk, poi io vi terrò al corrente per quello che riguarda gli ospiti, una serata veramente unica, dalle 9 alle 11 e mezza di sera, dalle 21 alle 23 e 30, avete mangiato, prendete, andate là, vi divertite invece di guardare tutte quelle cose che vanno in televisione, che si parla sempre di politica, di tutte quelle cose, prendete e andate in questa sala polivalente, vi dico dov'è, lo leggo perché se no non mi ricordo, raggiungerlo è facile, allora proprio nel centro del paese di Serravalle davanti alla piazza centrale che è piazza Bertoldi, al piano sotterraneo dello stabile della scuola media, piano sotterraneo della scuola media, all'interno di uno dei teatri più belli di San Marino, è un anfiteatro, ecco, quindi amici 4 euro per divertirvi tutti i martedì sera con dei musicisti straordinari che suonano proprio per il loro divertimento ma anche per la vostra soddisfazione, da vivo, oh, non stavo più nei panni, ve lo dovevo dire, vi ho tenuto un attimino il suspense così però ho detto dai voi...